Bella canzone, incontra Tancredi, ciao! Ciao a tutti, è un piacere essere qua. In realtà noi ci rincontriamo, perché non so se ti ricordi, ma ormai sono passati anni, ci siamo incontrati anni fa in un bar di stazioni Termini. Vabbè, certo che me la ricordo, assolutamente. È passato una vita. Perché è stata tra l'altro una delle prime che ho fatto, tra l'altro. No, vabbè, è pazzasco, certo che me lo ricordo. C'è pure su YouTube, l'avevo pure rivista. Sì, ero tutto scombussolato da tutto quello che stava succedendo, pazzesco. Quindi ci rincontriamo dopo un bel po' di tempo e adesso ti troviamo a Serremo Giovani. Come sta andando questa esperienza? Ti abbiamo già visto nella prima puntata, quindi un passo già l'hai fatto. Come sta andando? Un primo passo l'ho fatto, ma sta andando bene. Comunque la canzone sta piacendo, sto avendo belli scontri. Cosa che mi ha gasato ulteriormente perché l'ho visto un po' come un azzardo. Cioè, tra il pool di brani che avevamo, questo è quello un po' più fuori dagli schemi che avevamo. Alla fine ci siamo detti tutti quanti. Proviamo ad andare con una roba un po' più particolare. E quindi c'è il rischio di... è bello oppure fa cagare a tutti. Invece fortunatamente sta piacendo, quindi questa cosa mi sta ulteriormente gasando. E testa comunque sulle spalle per le prossime puntate da fare. Però sono molto fiducioso comunque. Tu avevi già provato Serremo Giovani. Quest'anno però il format è completamente diverso. Che cosa pensi di queste sfide dirette e comunque di questa opportunità di partire prima rispetto agli ultimi anni di Amadeus? Allora, ci sta secondo me da una parte perché così sia anche più tempo per vedere in caso di correggere il tiro prima di andare eventualmente all'Ariston, cioè vedere già come vengono le cose. D'altra parte è un po' ansiogena come cosa perché comunque devi passare tante volte. Cioè non è l'anno scorso di base una volta, boom, o sei dentro o sei fuori. Così comunque sono tre più lì. Allora, comunque è un percorso lungo quindi te la fa sudare. Infatti gliel'avevo detto e il ragazzo ha detto ve la siete studiata bene per farci andare in ansia tutti quanti. E c'è qualcuno degli altri ragazzi che ti piace particolarmente? Magari qualcuno che hai scoperto proprio grazie a Serremo Giovani e con cui magari ti piacerebbe duettare, collaborare? Allora, mi piace tanto quella di Alex, ma già gliel'ho detto anche in privato, che comunque ci sentiamo ogni tanto. Lo so, mi piace. Mi piace pure quella di Settembre che ho visto poi che l'ha fatta, molto carino come brano. Quello di Angelica Bove, carino, mi piace. E anche quello di Mew che è un po' più up. Comunque, cioè ci sono comunque delle belle proposte. E invece appunto come nasce Standing Ovation? Allora, Standing Ovation nasce in quell'angolino lì dove c'è la chitarra, che c'è il telefono attaccato lì, memo vocale prima di Standing Ovation, con io che faccio complimenti, complimenti, che c'è questa roba che è pazzesca. Ed è tipo di due anni fa quest'idea. Poi sono andato in studio con Adel e Gianmarco Grande con quest'idea e con l'idea, tipo il ritornello era una cosa tipo Standing Ovation, no? E facciamo la canzone, facciamo la prima demo, rimane due anni sotterrata nel Dropbox che non veniva minimamente calcolata da nessuno di noi. Io ogni tanto gli dicevo, ma Standing Ovation? Me la ricordate, la canzone? Esatto. E poi, appunto, come ti ho detto prima, facendo poi una selezione di brani che, papabili, abbiamo risentito il pezzo così, e abbiamo detto, ok, lavoriamoci. Quindi poi ci ho lavorato con Giordano Colombo e anche io alla produzione, al test, abbiamo cambiato un po' di cose, abbiamo aggiunto lo special, ho riscritto la seconda strofa perché non mi piaceva quella che avevo fatto prima così, e poi da lì è diventata Standing Ovation. Però già il ritornello... Ah, ho cambiato pure la seconda parte del ritornello, quello che ho cantato. Vabbè, ho cambiato un paio di cose, però di base l'anima del brano già c'era ed era già bella a fuoco. E invece come nasce l'idea del videoclip? Allora, pazzesco, perché videoclip girato in meno di 24 ore con mio fratello, che è mio fratello che sta studiando cinema, dovevamo mandare il video, tipo due giorni dopo, e partoriamo quest'idea insieme, comunque gli avevo detto che volevo una cosa semplice, questa cosa di... poi finisce che usciamo dalla stanza con quest'idea del microfono che gira e io che cambio varie personalità, no? E quindi poi siamo andati in un posto in campagna dove abbiamo una casa, abbiamo girato lì tutto il giorno e poi mio fratello e gli altri con cui ho lavorato hanno passato la giornata dopo, tutto il tempo a lavorare, non hanno neanche dormito per consegnare il video. Quindi è stato molto divertente, molto in freestyle, comunque è venuto un bel video comunque. E invece un'ultima domanda, a prescindere da come andrà Sanremo Giovani, c'è già un album, un EP pronto? Qual è il filo conduttore dei brani, nel caso ci fosse già pronto? Allora, sto ufficialmente lavorando al disco, lo sto chiudendo, cioè c'ho già tutti i brani e gli sto dando un legame strumentale un po' più a fuoco perché comunque sto curando anche io la parte di produzione assieme anche a Giordano Colombo, stiamo facendo le cose insieme, però comunque alla fine anche qua a casa mi metto a fare le cose. E abbiamo scelto i brani un po' più sperimentali, quindi verrà fuori un progetto un po' più sperimentale con ovviamente episodi di singoli come Sending Ovation, come altri che ho già pubblicato prima e un altro che la quale credo molto e che secondo me potrà piacere tanto e poi tutto il resto è un bel viaggio. Nelle varie cose che ho sperimentato, comunque sia in struttura, sia in suoni, alcune cose proprio che non si sono mai sentite, fatte fare da me, però secondo me merita davvero tanto e adesso che mi ci sto mettendo proprio al 100% a lavorare è proprio bello, cioè non vedo l'ora di chiuderlo per bene, però sono veramente casato di questa cosa e verrà un bel disco, che tra l'altro è il mio primo disco perché l'ho rilasciato solo due P fino adesso, primo disco, quindi no basta, mi tolgo questa pressione che mi sto facendo e faccio uscire a breve questo bel disco. Allora, vi ringraziamo e se vuoi fare un saluto a tutti i lettori di Bella Canzone. Un saluto a tutti i lettori di Bella Canzone, un saluto e ci vediamo a Saremo Giovani.